Ma l'elargizione della cittadinanza onoraria è equivocata, cioè non onora tanto la persona che la riceve nel caso di una persona straordinaria come Eliana Segre, ma onora la città che la elargisce. Voglio solo dire una cosa, questo paese secondo me in generale non ha mai fatto i conti col suo passato, perché vive ancora nel mito falso italiani brava gente, intendiamoci, c'erano tanti brava gente allora, c'è tantissima brava gente oggi, ma non perché italiani, perché brava gente. La brava gente è una nazione.